Bentornati a tutti ragazzi, benvenuto se è la prima volta che sei sul mio canale, siamo sempre qui, parliamo sempre di fragranze, ovviamente questa è la nostra grande passione che ci accomuna. Oggi andiamo a parlare di una fragranza, veramente ragazzi che sono contentissimo che sia uscita anche su Fragrantica finalmente e poi vi dirò di quale si tratta. Volevo farvi un'anteprima, una piccola specie di fuorionda, fuorionda più che altro di parentesi. Quindi se avete problematiche di spazio, di dove mettere le fragranze in campioncini, ho rubato l'idea a Fabrizio del canale De Cantankerus che in uno dei suoi ultimi video ha praticamente fatto presente che ha comprato queste scatole. Adesso ve le faccio vedere, si sono incastrate, guardate che belle. E quest'altra che è ancora mezza vuota, insomma ecco ve l'ho lasciata, ve l'ho messa all'incontrario giustamente. Ecco qui, questa e questa. C'è anche quella del pronto soccorso che è bellissima, la voglio comprare. Se avete problematiche di spazio, oppure avete un disastro di campioncini messi alla cavolo di cane come ce l'ho io, allora questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Guardate quanto sono capienti, sono veramente bellissime, si trovano su Amazon ad un prezzo veramente tranquillo, sui 10€. Questa l'ho pagata 8€ perché stava in promozione e le altre costano sui 10€ e qualcosa. Perché questo? Perché praticamente avevo un casino di campioncini, ho detto vabbè sai, piano piano mi adeguo, li sistemo. Però poi ho visto questo video che vi invito sempre ad andare a guardare e magari ad iscrivervi al canale di Fabrizio perché è veramente molto competente e professionale. Mi ha dato un pochino l'idea di fare, insomma, di mettere questi campioncini. Nel frattempo ho il microfono che cade a terra continuamente, lo devo mettere meglio, giustamente. E insomma è una cosa fichissima. Ma poi vi lascio il link qui in descrizione delle fragranze, sì, delle fragranze, vabbè, tanto parliamo sempre di quelle, di queste scatole. Ci sono tantissimi tipi, tantissime forme, dimensioni, colori, disegni, fantastici. Ok, perfetto. Ma passiamo alla cosa che più ci interessa, ovvero le fragranze. Oggi andiamo a parlare di una fragranza alla rosa. Allora, siccome la rosa è una, diciamo, nota olfattiva che mi piace in realtà nelle fragranze, ho deciso di inaugurare, anche con questo video, la prima parte della mia nuova playlist sulle vie della rosa. Insomma, poi vi troverò un nome carino, lo vedrete nella descrizione, eccetera. Perché ritengo che, a parte che ho fatto un sondaggio l'altra volta sul mio canale, quindi se voi andate sul mio canale e cliccate su community, sui miei post, c'è un sondaggio che riguardava praticamente le fragranze all'incenso, no? Ieri poi è uscito il video su Reliquia, che non ha avuto tanto successo purtroppo, ma non vi piacciono le fragranze all'incenso? Non vi piace scoprire un po' un mondo come quello di Sorcinelli? Andate a darci un'occhiata, perché è molto interessante. Quindi con questo profumo andiamo ad inaugurare la playlist Fragranza alla Rosa o sulle vie della rosa. Insomma, andiamo un pochino di fantasia, poi magari ci lavorerò sopra. E perché non cominciare la via della rosa, le vie delle rose, per quanto riguarda le fragranze di Lorenzo Pazzaia? Allora, io adoro le fragranze di Lorenzo, ormai è risaputo, io non ci posso fare niente. È un brand a cui mi sono letteralmente appassionato, una persona veramente fantastica. Anzi, sono uscite anche le altre fragranze su Fragrantica, quindi se volete andare ad esprimere i vostri voti per le fragranze, per le nuove fragranze, andate. Tanto, insomma, stanno lì e magari lasciatevi una recensione. E parliamo oggi di Passion Rose. Una fragranza che in realtà già da qualche mese Lorenzo ha creato, ha già distribuito, diciamo, già ce ne sono dei fantastici appassionati di fragranze e soprattutto anche possessori felici di questo profumo. È un profumo che, come dice ovviamente il nome, è una passione di rosa. Quindi troviamo la rosa veramente in tutte le sue forme, in tutte le sue caratteristiche, in tutta la sua naturalezza. Perché abbiamo una rosa frizzante, una rosa croccante, come, non so, mi viene in mente questo aggettivo. Una rosa bagnata, fresca, anche leggermente verde, ma che, ragazzi, è veramente buona. È un profumo che sa di vitalità, che sa di freschezza, che sa di primavera, di gioia, di voglia di vivere, di voglia di uscire. Questa fragranza qui è un profumo che ovviamente strizza un pochino l'occhio, a mio avviso, all'universo femminile, eh. Quindi ci sono persone, magari, che amano, ovviamente, le fragranze rosa, come a me, e la indosserei veramente senza problemi. Però questo profumo qui, veramente, apre con delle note fresche, frizzanti, fruttate. Perché troviamo anche la nota fruttata del frutto della passione, che Lorenzo adora mettere nelle fragranze, così come nei cocktail, no? Ed è veramente, diciamo, questo sentore fruttato, verde, frizzante, agrumato. Perché poi andiamo a vedere, vi farò una piccola, diciamo, una piccola parentesi sulle note olfattive. Diciamo, è molto frizzante, quindi energica, ci fa pensare all'estate. E, veramente, ragazzi, è una fragranza stupenda, che per questo periodo dell'anno, ma anche per l'estate, o, tra parentesi, anche per tutto l'anno, perché, comunque, io non amo dare troppo le, diciamo, dare delle indicazioni di quando e dove mettere un profumo. È una fragranza, secondo me, assolutamente versatile, unisex, che strizza sicuramente l'occhio alla parte femminile, ma che, ragazzi, se c'è un uomo che ama le fragranze alla rosa, questa potrebbe essere un ottimo inizio. Una rosa, soprattutto, che vada bene anche per l'estate, perché poi, magari, le rose più frequenti, sono quelle di un mix tra rosa e wood, rosa e legni, che va a finire su delle fragranze, diciamo, più invernali. Mentre in questa troviamo una rosa che è indossabile, oltre che tutto l'anno, ma soprattutto in primavera e estate, quando vogliamo una fragranza fresca, rilassante, energica, che faccia sicuramente sentire la nostra presenza, ma che non sia troppo urlata. Poi stiamo sempre parlando di un extraire de parfum e quindi di alte concentrazioni di oli essenziali, quindi, voglio dire, c'è assolutamente un discorso di qualità delle materie prime che Lorenzo utilizza e sono veramente di altissima qualità, ragazzi, oltre che in alte concentrazioni, è veramente magnifico. Lasciano la pelle oleosa, non so se si vede, sicuramente non lo vedrete, ma il braccio è praticamente unto da questi oli essenziali che sono contenuti nella sua fragranza. Come vi dicevo, questa fragranza, questo profumo è assolutamente ideale, intanto sto cercando le note olfattive per farvi una breve parentesi. È ideale, veramente, ragazzi, per qualsiasi occasione, soprattutto per l'estate, come vi ho detto. Viene definita come una fragranza, appunto, fruttata, fresca, agrumata e alla rosa. Infatti, in apertura abbiamo tutta una serie di note fresche, come il ribes nero, che è un frutto, il frutto della passione, il bergamotto, che si sentono veramente tanto insieme a questa rosa, che troviamo, naturalmente, anche tra le note centrali. Tra le note di apertura troviamo anche il pepe rosa e lo zafferano, che gli danno, in realtà, un pizzico di, diciamo, speziatura, che la fanno essere un po' più marcata, più solida, questa rosa. Poi, tra le note centrali, troviamo il pacciuli, il petit grain del Paraguay, e quindi gli dà sempre queste note, sì, agrumate, fresche e verdi, ma più decise e fiorite, per poi passare ad una base legnosa di pompelmo, muschio bianco, quercia, legno di guagliaco, vaniglia cuoio e muschio di quercia. Quindi abbiamo, durante l'estremo e lunghissimo dry down, un profumo che si va a basare su una nota legnosa, ma rimanendo, comunque, sempre sui suoi passi. Quindi abbiamo una rosa fresca, elegante, ma che vada bene anche per qualsiasi occasione, ragazzi, è inutile starlo a dire e a marcare. Sono contento di aver parlato di questo profumo, perché è veramente bello. È un giardino fiorito, un giardino fresco, dove ci sono dei fiori, dove ci sono, appunto, questi alberi, magari, di limone, di pompelmo, di bergamotto, questi frutti, anche, che vengono fuori, e che Lorenzo ama tantissimo mettere nei suoi profumi, perché Lorenzo è un amante, è sfegatato, naturalmente, come sappiamo ben tutti, delle note fruttate. Questa rosa qui, sì, è un profumo, secondo me, molto importante, per quanto riguarda la collezione di Lorenzo, perché si instrada verso, anche, un universo un po' più femminile. Siccome parecchie fragranze, attualmente in commercio, sono, diciamo, sì, unisex, ma molte sono, magari, più per l'universo maschile, ma comunque sono sempre unisex, attenzione, io non voglio fare, diciamo, delle divisioni di genere, eccetera, però questa fragranza qui può essere un ottimo investimento per le persone che vogliono una fragranza di Lorenzo Pazzaia, ma vogliono una fragranza che tenda molto a femminile, quindi delle ragazze, delle donne, che amano le note frizzanti, fresche e fiorite, della rosa, ma va bene anche per quegli uomini, per quei ragazzi che hanno, non hanno difficoltà nell'indossare un profumo da, che comunque è unisex, ma che magari strizza l'occhio, appunto, come vi ho detto, al femminile. Quindi una fragranza tutto tonno, una fragranza alla rosa stupenda, meravigliosa, che sta di estate, va benissimo, veramente, ragazzi, per qualsiasi contesto, ed è veramente stupenda, stupenda. Cioè, questa frizzantezza rimane per quasi tutta la durata del profumo, ed è una durata veramente molto, molto lunga. È una fragranza fruttata, grazie a questo pompelmo succoso, a questo frutto della passione, veramente molto dolce, ma rimane sempre nell'agrumato fiorito fresco. Ragazzi, dovete assolutamente provare questo profumo. Io sono veramente molto contento di avervene parlato. Fatemi sapere se conoscete questa fragranza, e soprattutto iscrivetevi al canale, perché è sempre molto importante. Grazie mille dell'attenzione, spero di essere stato utile. Mi raccomando, lasciate un bel like e un commento, e ci vediamo al prossimo video.